Il portiere è sempre potuto fare il portiere Si è in un rec? Sì La prima domanda è come ero quando hai iniziato a giocare in Ghost? Buf! 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 Sì, sì Sì, sì Ho iniziato a fare il portiere da subito Da bene a essere da giocare a calcio Perché il portiere alla fine è un ruolo Diciamo che si pensa che il portiere sia un ruolo che conta meno Invece probabilmente è quello che conta la squadra E niente, io il portiere l'ho fatto da subito Perché mi piaceva puntare, mi è stata puntata da piccolo Quindi, niente, ho iniziato e ho scoperto di essere anche bravino E quindi niente, se l'ho fatto da subito e basta Come ti prepari per una partita importante? Per una partita importante bisogna sicuramente essere molto concentrati sulla testa La sera prima sicuramente Mangiare bene, tutto così E poi bisogna avere tanta testa E iniziare subito a pensare alla partita Appena si entrare negli spoglatori subito a pensare alla partita E lì non è perso più chiacchiere Lì bisogna andare in campo e far vedere cosa si fa fare Qualche tipi per le warm-ups? Hai qualche superstizione? Qualcosa di particolare che fai? Ah sì, io quasi sempre prima della partita tocco la traversa e i due incroci E' una cosa che faccio da quando ero piccolo, diciamo Quindi lo faccio sempre, prima di ogni tempo Che guanti utilizzi? Io utilizzo i guanti della Rovesh che mi sponsorizza Quindi, niente, spesso sono i migliori nel campo dei quartieri a portiere Lui usa anche il portiere della prima squadra della mia squadra Quindi, niente, mi piaceva molto e li userò ancora Cosa guardi come caratteristiche in un paio di guanti? Un guanto, principalmente, guardo la comodità Perché quella è molto importante Perché se non senti un guanto bene alla mano Non ti aiuta sicuramente nelle prese e tutte queste cose qua Quindi la prima cosa che guardo è quella Quanti paio di guanti usi in una stagione? Quanti paio di guanti usi in una stagione? Questa è rispondere in inglese 10-11 C'è qualche carriera di carriera da qui? C'è qualche momento fino ad oggi a cui sei particolarmente affizionato? La, se fu piccola, breve carriera sportiva Sì, sicuramente Molto tempo fa, tre o quattro anni fa Visti il primo come miglior portiere Un problema molto importante Sicuramente quello fu uno dei miei più grandi traguardi da piccolo Chi è il tuo portiere preferito? Il tuo portiere, il tuo modello Samir Andalovic e Manuel Noi Come ti vedi fra cinque anni? Come ti vedi fra cinque anni? Fra cinque anni spero già di giocare in una categoria alta Cosa ti aspetti da questo torneo a livello personale e di squadra? Mi aspetto di far bene ogni partita Dato che la società ha contato in me per farmi giocare tutte le partite Quindi, niente, la squadra Spero per tutti che vada bene E niente Speriamo di superare adesso il girone E poi ai quarti si vedrà Ok, grazie molto Grazie